La decisione di oggi, il Governo, ha preso un rischio, un rischio ragionato però... Presidente, in pratica questo cosa vuol dire? La decisione di... Non ho perso il filo, guardi. Benissimo, la conferenza stampa ci conclude qui, ringrazio il Presidente e il Ministro. Grazie. Allora, diciamolo, è tutto vero, non è roba di Marsili. Allora, è tutto vero, questa non è... Quindi, lo potete mettere sulle prime pagine online...